Voilà, così a posto Questa serata incomincio con un piccolo unboxing dedicato a un giocatore molto particolare Diciamo che stasera non ce n'avevo proprio la forza di giocare a Sekiro Quindi mi sono dedicato ad altro Visto che finalmente, dopo quasi un mese di attesa, mi è arrivato il leggendario Optimus Prime Eccolo qua, in tutta la sua bellezza Problemi ancora un po' con la posizione della telecamera Quello che state ammirando è quello che si potrebbe definire un giocattolo per adulti Anche se non vibra, questo riesce a dare molto piacere a certe persone con gusti particolari Ovvero, in questo caso, si tratta di una versione molto particolare dell'Optimus Prime del film Del film di Bumblebee Che non è presente nel film Infatti, chi ha visto il film sa benissimo che una versione del genere non c'è Ma soprattutto, chi conosce i giocattoli recenti dedicati ai Transformers Sa benissimo che il nuovo trend non è più quello di un tempo Ma è l'unificazione della Takara Tomy con l'Asbro In questo caso, però, visto che appunto si tratta di un prodotto recente Di fine 2018 Non è successo questo gemellaggio Infatti, per la versione Asbro L'Evasion Mode, diciamo, di Optimus Prime A cui si ispira appunto questo modello E il Optimus Prime di Bumblebee Sono due modelli separati Che non fanno parte di questa categoria Infatti, questo è classificato con il numero giapponese di Transformers 35 Ed ha una scala nettamente più grande Dei Studio Series o dei Transformers Siege che stanno uscendo adesso Come potete vedere dalla mia mano Si tratta di un bel pezzo di modellino È già assemblato, è già colorato, è trasformabile La confezione, essendo naturalmente giapponese Qua, come potete vedere, sul lato troneggia Bumblebee Tutta scritta in giapponese È un tripudio di bellezza In quanto questo modello A differenza appunto dell'Evasion Mode Che era già uscita per il quarto film E Transformers Presenta realmente una colorazione in stile G1 E soprattutto un camion come quello G1 Bello squadrato, a forma di camion Non quella cosa orribile Che poi usano nei nuovi film Con il motore allungato Quelle nuove motrici che non mi piacciono Questo è proprio anni 80 Come appunto era nell'84 Il classico Optimus Prime Con metà del corpo rosso E le gambe blu Come dicevo prima Si tratta appunto di un modello Che la Takara Tomi Ha fatto solo per il mercato giapponese Quindi non si trova In versione europea Se non appunto di importazione Facendola arrivare con quasi un mese di attesa Adesso riposo di nuovo Questo simpatico treppiedi Il fatto che usando Streamlabs Ci sia un netto zoom Non permette bene di inquadrare le cose Adesso andremo ad aprire la confezione Confezione che è chiusa lateralmente Andremo ad aprirla con un cutter Da modellismo Scusate ancora Queste cose molto amatoriali Ma ci tenevo A realizzare questo unboxing Per continuare a fare un po' di video Anche stasera Insomma potete vedere La confezione presenta sul retro Un bellissimo simbolo degli Autobot E il model kit adesso Verrà pian piano liberato Dato che Sia per motivi di sicurezza Che di trasporto È praticamente incatenato Alla confezione Con diversi laccetti Trasparenti Sul fondo della confezione È presente il suo simpatico manuale Completamente in giapponese Adesso andiamo ad aprirlo Presenta delle istruzioni Molto diverse Da quella Che si è abituati ad avere adesso Appunto Con i Power of the Prime O con gli Studio Series In quanto Non solo Le indicazioni sono Molto più chiare Viene indicato Il senso Di dove vengono Diciamo Ruotati E girati i pezzi E sotto C'è una piccola didascalia Che Per chi riesce a leggere Il giapponese Indica effettivamente Cosa va fatto Tipo Vediamo qua Se riesco a inquadrarlo bene Ruotare di 90 gradi Che è una cosa Che spesso non viene Fatta capire bene Da delle semplici frecce Nei manuali Occidentali E alla fine Di questi 36 passaggi 36 Si ottiene questo Nelle confezioni Dei nuovi Autobot O comunque Dei Transformers Della Takaratomi Barra Hasbro Perché come dicevamo Primo ormai Sono gemellate Il Contenuto è sempre In forma robotica E poi Si passa Solo Durante la trasformazione Al veicolo Adesso Separiamo Un bel po' Vediamo se Ma l'arma Ne ha ancora uno Questo È Ion Blast Molto Modernizzato Infatti Come dicevo Questo A differenza Del Optimus Prime Visto nel film Questo adesso Lo togliamo È un Optimus Prime Con il design Che ricorda Quello dei primi film Non è di certo Un masterpiece Però Come potete vedere Ha una serie Di dettagli Non indifferente E soprattutto Tantissime chicche Che mi hanno convinto All'acquisto Cerchiamo un attimo Di Fare Pulizia Fare spazio Una delle prime chicche Come potete vedere La testa Tra l'altro È Molto articolata Permette anche Di essere aperta E di ruotare Cambiando così L'espressione Tra quello Classico G1 Con la maschera E quello Più moderno Dei film Con la bocca Che non mi piace Infatti Già di base Viene messo In esposizione Nella confezione Con La mascherina Che è molto Molto più Funzionale Qua Come potete vedere Le spalline Hanno Il simbolo Degli Autobot Da tutti e due i lati Cosa che In molti altri Modelli Più recenti È stata Quasi rimossa Non si sa bene Perché Gli Autobot Adesso hanno Un simbolo Solo da una parte E Non so se si vede bene Con il riflesso Questa parte È cromata Una cosa Che Nei giocattoli Moderni È quasi scomparsa Quando ero bambino Io Quasi ogni Transformers Aveva plastiche Trasparenti Pezzi cromati Che appunto Bisognava anche Trattare bene Che si rovinava Molto facilmente Qua invece È stata Riutilizzata Di nuovo Anche qua Per Le parti Laterali Il modello è Incredibilmente Snodato Perché Anche le braccia Queste fanno lo scatto Perché appunto Devono reggere bene Il peso Hanno lo snodo Hanno lo snodo Anche laterale Si muove Anche il pugno Che è molto dettagliato Soprattutto Perché può anche Aprirsi Cosa che Cosa che il 99% Dei transformers Moderni Non fa più Quindi adesso Torniamo Alla posizione Quasi base Rimettiamo il pugno Dritto Anche le gambe Sono Molto Articolate Scusate se ogni tanto Non si vede Cerco appunto Di Inquadrarlo Il più possibile Ha Anche i piedi Hanno La possibilità Di inclinarsi Lateralmente Così Da Mantenere Una Posizione Davvero Stabile E molto Action Il torace Può appunto Essere Un minimo Ruotato Le ruote Girano davvero Anche queste Hanno L'interno Cromato Per dare Una sensazione Molto Realistica Sono Naturalmente Ruote Di Plastica Piena E non Di gomma Però Comunque Fanno Il loro Bel Effetto Mettendolo Un pochettino Imposa Questo Penso che Vada Inserito Così Fa la Sua Bella Figura Non so Intanto se Sentite in Sottofondo La musica Molto Nostalgica Che ho messo Come potete vedere È un Gran bel Pezzo Di Giocattolo Come dicevo Non è Sicuramente Un Masterpiece A livello Di qualità Qui Pezzoli Si stacca Però Ha Una Discreda Anzi Ottima Posabilità Che Permette Ad Ottimus Prime Di stare Bene In piedi In diverse Posizioni Io Personalmente Come anche Per i Gumpla Preferisco Una Posa Un pochettino Più Marziale Quindi Andiamo A posizionarlo In piedi Il suo Blaster Perché La mano Va Appunto Chiusa Bene Cioè Anche La linea Non so se Si vede bene Perché C'è Poca luce La linea guida Che va Incastrarsi Nella linea guida Del pugno Per Posizionare Il pezzo Dritto E Così Abbiamo Già Un bel Pezzo Di modellino Confrontandolo Con La versione Power of the Prime Composta Dai due Modelli Di Orion Pax E Convoglio Sul Redder Si può Vedere Che le Dimensioni Sono Appunto Poco Diverse Risulta Comunque Un bel Pezzo Di modellino Quasi 30 cm E Paragonato Alla nuova Versione Dei Transformers Siege Ispirati Al Design G1 E ai Veicoli Di Cybertron Si può Notare Che Si è Grosso Praticamente Il Doppio Considerando Che lui È Già Più Grande Delle Evasion Mode Ispirato Al Film Dell'era Dell'estinzione E Quindi È Un Modello Già Oversize Come Diceva Appunto Non viene Venduto Al di Fuori Del Giappone È Solo Per Il Mercato Asiatico Quindi Va Preso L'importazione Si Tratta Di Finiti Tipo Le Plastiche Trasparenti Comperò Il Tergicristalli Cromato Ci sono Un sacco Di Dettagli Che Andrò Poi A Rifinire Un Po Con I Marker Per Dargli Più Spessore Per Essere Come Dicevo Un Giocattolo E Non Un Masterpiece Ci Sono Poche Parti Cave E Anche La Trasformazione Laterale Qua Ad esempio Questo Si è Girato Questi Sono Molto Mobili È Davvero Ben Fatta Ci Sono Anche Dettagli Qua Tra l'altro Una volta Trasformato Può Essere Anche Collegato Con I Vari Trailer Dei Masterpiece O Quelli Teared Party Quindi Diciamo Che Se Siete Appassionati Di Optimus Prime Questo È Davvero Un Ottimo Acquisto Fonde Il Design Moderno E Sfaccettato Dei Nuovi Film Con Il Colore E Le Funzioni Per Così Dire La Trasformazione Classica Del G1 A Tante Tante Parti Mobili A Tanti Snodi Ha Soprattutto Dei Bellissimi Dettagli La Possibilità Di Cambiare Faccia Il Simbolo Degli Autobot Sulle Spalle Il Blaster Iconico In Versione Modernizzata E Quindi Appunto È Un Modello Davvero Consigliato A Tutti Gli Appassionati Visto Che Oggi Non Me La Sentiva Appunto Di Fare Tanti Nuovi Video È Stata Veramente Una Manna Vedere Che Arrivato Questo Modello A Sorpresa Arrivato Con Qualche Giorno Di Anticipo Andiamo Tra L'altro Adesso A Provare Un Attimo La Trasformazione Dell'arma Bisogna Sempre Capire L'ordine In Qui Vanno Fatte Le Cose Questo Ho Fatto Scattare In Avanti Questo Va Tutti Indietro E Poi Non So Come Dicevo Prima Che Ecco Lateralmente Scatta Adesso Si Gira Così E Questo Si Può Aprire Così Questi Rientrano Dentro Andranno Colorati Qua Lo Colorerò Per Farlo Nero Così Da Dare Più Senso Alla Bocca Di Fuoco Cercare Di Capire Un Attimo Questo Passaggio Direi Così Così In Questo Modo E Quello Che Fa Vedere Sul Retro I Due Pucchi Si Vanno A Infilare Qua È Difficio Cercare Di Inquadrarlo Voilà Così Fa La Sua Figura Di Arma Riposta Tra l'altro Come La Trasformazione Già Bella Complicata E Fa Parte Del Personaggio E Anche Poi Del Della Modalità Veicolo Infatti Quello Rimane Fisso Anche Durante La Trasformazione In Veicolo Devo Dire Che Appunto Si Tratta Di Un Bel Modello Ultimamente Con Anche I Model Kit Della Flame Toys Mi È Ritornata Alla Scimmia Dei Transformers Infatti Ho Un po' Di Musiche Di Cose Da Ascoltare Di Vecchie Glorie E Soprattutto Anche Di Cose Nuove Ho Scoperto Addirittura Delle Serie Che Non Avevo Mai Visto Vediamo Qua Che Appunto Si Pu Muovere Con Poche Rifiniture Secondo Me Renderà Tantissimo Voilà Direi che per adesso è tutto La stanchezza mi sta davvero pervadendo Però La bellezza di questo Piccolo gioiello Ispirata appunto Alla mia infanzia C'è da dire che i nuovi film A parte forse il primo Non mi hanno mai detto niente Sono Fatti veramente con i piedi Per così dire Perché non hanno nessun Come dire Nessun appeal Per un vecchio fan Chi Chiama Optimus Prime Non pensa che sia un imbecille Che ha portato Gli unici otto Personaggi Diciamo Della serie A morire Ci pensa quasi sempre Bumblebee a fare qualcosa Per questo appunto Si è guadagnato un film Da solo È riuscito Comunque a Boh A fare cose Non a sconfiggere Megatron Perché comunque Anche se una volta l'ha sconfitto Poi è tornato Galvatron Sembrava un camion Dell'Iveco Quelle cose lì Però comunque In sé Le serie di giocattoli Si sono evulte tantissimo Infatti i prezzi Non sono proprio Per ragazzini Gli studio series Per quanto piccoli Sono davvero Molto dettagliati Peccato che appunto Abbiano questo design Del film E spesso La forma robotica È abbastanza Confusionaria E strana E a volte anche Poco fedele A quella del film Mentre Il veicolo Dei studio series È molto bella Infatti Per adesso Solo un Bumblebee Che vi farò vedere Poi più avanti I Power of the Prime Come avete visto Prima Sono modelli Molto grandi Che rispecchiano Un look G1 Dettagliato E Non proprio fedele Agli originali Come colorazione Pezzi Però Molto evocativo Questo Ispirato Appunto Al nuovo film In versione Old style È un piccolo Gioiello E poi adesso Sono arrivati I Transformers Siege Che presentano Un look Fiero Della sua Origine G1 Con Con Una modalità Veicolo Ispirata Appunto Alla guerra Di Cybertron Molto Fantascientifica Appunto Le macchine Non sono Realistiche Optimus Prime È già diventata Una cosa strana Che è D'altro Che un Camion Però Hanno Davvero Tantissimi Pezzi E cose Aggiuntive Per combinarli Potenziarli Fare anche Dei piccoli Diorami Invece I nuovi Model kit Della Furao Della Furai Scusate Sono Belli La Flame Toys Ha Degli alti E bassi Perché fa O delle action Figure Non trasformabili Costosissime Oppure Dei model kit Comunque Costosi Costano molto Di più Dei giocattoli Già prefatti Che A differenza Di quanto Facevano Ben sperare All'inizio Risiedono O meglio Richiedono Tantissimi Dettagli E rifiniture Sia prima Che post Montaggio Quindi Avere una cosa Come questa Che si E' un giocattolo Ma E' un giocattolo Appunto Per adulti E' un Qualcosa Che va Ben oltre Quello che Può volere Un bambino E' un ricordo Di un'era Passata Che si fonde Al Nuovo Design Del presente Ha un sacco Di dettagli Ha un sacco Appunto Di piccole Finezze Per la trasformazione Che adesso Non Ho la forza Di testare Tra l'altro Vedete anche qua Il dettaglio Del vetro Trasparente Con la cornice Argentata Le altre Parti Metallizzate Che splendono E appunto E' qualcosa Che va Ben oltre Quello Che Ci meritiamo I transformers Da bambini Ci hanno dato Tante gioie E crescendo In realtà Sono solo Che peggiorati Cioè Sarà Tutta un'era Di cartoni Animati In computer Grafica Orribile Di quelle cose Quasi sperimentali Che Stento a credere Venissero dati Regolarmente Hanno cambiato Trama Stile Dei personaggi Trasformazioni I nuovi film Hanno ridato Un po' Di Verve Al brand Facendo Più che altro Appunto Ritornare Con il contrasto Di queste nuove Versioni In cui non si capiva Un cazzo Quando si trasformavano Hanno fatto Ritornare Alla voglia Del classico G1 Di quel robot Squadrato Che diventava Un camion Una macchina Un aereo Piegando Alcuni pezzi Girando Su se stesso E non Accartocciandosi In una palla Di cose Che facevano Strani suoni Click Clack E poi Diventavano Un quarto Delle sue Proporzioni Senza motivo Quindi Questa fusione Tra i due Stili È appunto Uno dei pochi Modelli Ispirati Ai film Che io Posseggo Uno soprattutto Dei pochi Che voleva Ardentemente E per cui Ho aspettato Quasi un mese L'arrivo Ecco a voi Appunto Il leggendario Optimus Prime Questo è il suo nome E anche se C'è il logo Di Transformers Bumblebee Non c'entra niente Con L'Optimus Prime Di Bumblebee Però è molto bello E per questo Ne sono davvero Soddisfatto Si tratta Di un pezzo Non proprio unico Però comunque Difficile da trovare Da avere Di cui Si può essere fieri Nell'esporlo In collezione Come dicevo Più avanti Ci farò anche Qualche Dettagli E ritocco Manuale Per cercare Di far risaltare Alcuni dettagli Che non si vedono Ma ci sono Come Spesso accade Per i Gumbla Il molding Del pezzo Va ben oltre Quello che viene Pagato Però Per rendere Al massimo Deve essere Rifinito Da qualcuno Non solo Che ne ha La capacità Ma che ne ha La voglia E l'amore Di farlo Un bambino Che si trova Questa bellezza Lo terrebbe Così Ci giocherebbe Si stuferebbe Dopo due giorni E non volerebbe In un cassetto Io invece Adesso Farò Un paio di video Anche per la trasformazione Farò un post Sul blog Seguite anche il blog Già che ci siete E praticamente Sarà un pezzo Della mia collezione Di robottoni Robottone Che come dicevo Fonde Il classico Degli anni Ottanta Con la modernità Del 2010 Sarà stato Il primo film E quindi È Un ponte Tra i due mondi Ed è un pezzo Molto particolare Da avere La mia vecchia Passione Per i transformers È tornata Anche troppo Facendomi spendere Più soldi Di quelli Che speravo O meglio Che avrei dovuto Spendere Infatti Già lui Ha fatto Scendere Le mie finanze Il mese scorso Però Come dicevo Ne è valsa la pena Già questo Primo impatto È molto valido Si tratta Di un Modellino Comunque Non da collezione Come i masterpiece Che comunque Sono anche Molto più Fragili Per così dire Sono più Da tenere In bacheca Addirittura Per non fargli Perdere di valore Non andrebbero Quasi aperti Dalla scatola Come i pop Ma allora Che senso Ha Comprarli Si tratta Di un modello Con tantissime Rifiniture Dettagli Che vanno Ben oltre Il giocattolo Che ha Intanto Non so se vedete Anche L'ho già mosso Mille volte Ma Ha un livello Di costruzione Totalmente Diverso Da quelli Che fa L'Asbro Ormai Ormai Come dicevo Il molding Tra Asbro E Takara Tomi È praticamente Lo stesso A differenza Di un paio Di anni Fa Che non Si tratta Di un Semplice Repack Ma di Un vero e Proprio Produzione Parallela Alcuni Sempre Ci sono Ma la cosa Più Importante Appunto È poter fare Questi video Che non sono ancora A livello Professionale Sia per Mancanza di Risorse Tecniche Che di Energia Anche mie Mentali Però Stanno Incominciando A diventare Un piccolo Passo Avanti Per il mio Blog Per il mio Mondo Appunto Il mio Impero Delle Tenebre Virtuale E per Questo Direi Che è Tutto